a volte ci si può sentire come foglie trascinate dal vento lungo una strada sporca ci si può sentire come un granello di sabbia in trappola ma nessuno ha mai detto che la vita sia una cosa calma e ordinata non lo è una persona non è una foglia morta né un granello di sabbia una persona può in maggior o meno misura tracciare il proprio percorso e seguirlo